È ricoverato in prognosi riservata all'ospedale di Mestre un cittadino rumeno residente nella terraferma Lagunare. L'uomo è stato accoltellato al fegato dalla moglie con la quale stava litigando. I coniugi erano in casa quando improvvisamente tra i due sarebbe scoppiata la lite, nata per futili motivi e poi degenerata. Provvidenziale l'intervento della polizia è allertata da alcuni residenti. Sul posto è arrivato il 118 che ha trasportato marito e moglie all'ospedale. I due si erano accoltellati a vicenda. La donna presentava una ferita superficiale ad una gamba, mentre l'uomo ha riportato una ferita molto grave con lacerazione del fegato. È stato ricoverato in ospedale, ora si trova in prognosi riservata e in pericolo di vita. La donna, 43 anni, è stata deferita all'autorità giudiziaria per lesioni aggravate.